buonasera a tutti benvenuti a questo webinar allora iniziamo subito ok dovreste sentirmi allora condivido anche lo schermo datemi solo un feedback magari in chat che si veda anche lo schermo ok grazie Matteo ok perfetto possiamo partire solo un attimo che è un problema con la presentazione grazie a tutti grazie a tutti ok non mi fa partire con la presentazione a schermo intero ma dovreste comunque vedere le slide mi raccomando prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio in quanto i cfd sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 65 per cento dei conti dei clienti è il dettaglio di tic 1000 euro per l'editi perde denaro facendo trading con il cfd valuta se comprendi come funziona il cfd e se puoi sostenere elevato rischio di perdere denaro allora questa sera il webinar è dedicato a uno strumento che sta offrendo da qualche settimana tic 1000 che è l'advanced trading toolkit composto da una serie di expert e indicatori che vedremo adesso nel dettaglio però come sapete prima di entrare nel vivo del webinar c'è la presentazione del broker che rappresento che tic 1000 europe tic 1000 europe è un broker non di lindesk il che significa che il cento per cento delle posizioni vengono inviate liquidi provider è regolamentato dalla size che è registrato presso la consob con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro la velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi grazie agli oltre 10 server sparsi per il gobo gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato non ci sono commissioni sugli indici disponibili anche i micro lotti sugli indici americani insieme al DAX poi potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune come scalping arbitraggio eccetera e non avrete mai un record con tic 1000 e non ci sono costi né sui depositi né tanto meno sui prelievi questa è diciamo la uno screenshot che ho preso dalla consob per darmi un po l'idea e visto che comunque dalla lista della della consob ci sono tantissimi intermediari e imprese di investimento senza succursale quindi difficile trovare magari un particolare broker ho semplificato la ricerca andando a prendere appunto questo screenshot con il numero di iscrizione che è il 4310 tipologia di conti parliamo un po di conti forex sui cfd con tic 1000 che ha due conti di punta che sono il conto pro e il bip che sono conti con piccole commissioni e spread a partire da zero e poi c'è il conto classiche che non ha commissioni ma gli spread sono un po più alti inoltre da qualche mese abbiamo anche il conto sui futures e le opzioni che potete negoziare attraverso la piattaforma CQG ma anche attraverso connessioni API potete poi vedere un po tutte le caratteristiche del caso andando a spulciare il sito di TICME dove troverete un po tutti quelli che sono i costi delle commissioni i costi di mantenimento della piattaforma del data feed eccetera anche del deposito minimo quindi dicevo qui sulle connessioni API non solo attraverso la CQG si possono negoziare questi strumenti regolamentati ma anche attraverso ad esempio la training view che abbiamo una ottima interessante promozione fino a 31 ottobre con la training view che è totalmente gratuita farò un webinar a proposito di questo il 10 di agosto dovrebbe essere la data dove faccio vedere un po come negoziare attraverso la training view su questi prodotti regolamentati oltre a training view c'è la multi chart e la serra chart e altre piattaforme su richiesta come ad esempio anche la book map che so che molti utilizzano in maniera molto professionale ritornando sul discorso dell'offerta di ECFD potete constatare voi stessi gli sped e le commissioni come siano più bassi rispetto ad altri competitor potete andare ad esempio sul sito di MyFXbook che è un sito esterno e confrontare l'offerta di TICME con altri competitor noterete come per la maggior parte del tempo TICME abbia gli sped più bassi incluse le commissioni me ne accorgete da questo rettangolo che si illumina di azzurrino rispetto ad altri comunque competitor e chiudo la presentazione del broker con questa tabella che riassume un po' quelle che sono i costi commissionali che si applicano sull'otto di euro dollaro in questo caso scuso lo spread sul conto pro parliamo di 4 euro in apertura e chiusura sul conto VIP addirittura 2 euro quindi rispetto un po' alla media degli altri broker che ho visto applicano una media di circa 6 euro in apertura e chiusura il risparmio è di circa il 30% con TICME il pro e con il conto pro e addirittura oltre il 60% con il conto VIP allora io ho finito la presentazione del broker mi sposto un attimo in piattaforma ma mi devo far vedere prima dove scaricare questo toolkit cercherò anche di seguire un po' quelle che sono le domande non è sempre semplice da zoom controllare anche tutte le domande quindi io spiegherò un po' il tutto cercando poi di fermarmi un attimo nel caso ci siano delle domande pertinenti allora partiamo però dal sito così vi faccio vedere dove si va a scaricare questo toolkit questo strumento praticamente allora è gratuito per tutti i clienti di TICME il Europe ma anche con le altre regolamentazioni per scaricarlo basta entrare nella propria area clienti e quindi andare nella sezione piattaforme di trading che è questa qui e poi c'è la sezione dedicata appunto a questo toolkit con la possibilità di scaricarlo su Windows e il manuale di istruzioni con tutti i vari strumenti spiegati per dettaglio perché ne sono tantissimi quindi questa sera io cercherò di fare una carrellata ovviamente non potrò entrare nello specifico di ogni singolo strumento perché appunto ne sono tantissimi però poi se c'è un particolare interesse per un determinato strumento mi fermo e magari ci dedichiamo più tempo quindi si scarica da qui poi troverete un po' tutte anche le informazioni quindi oltre il manuale che ve lo scaricate in pdf che questo qui io prima l'ho scaricato vedete con tutte le spiegazioni dei vari tool che ci sono su TICME poi potete anche andarlo a vedere direttamente dalla pagina del sito e viene adesso il sito un po' un po' problemi di connessione vediamo se riesco a prenderla quindi da strumenti per il cliente sotto la sezione strumenti ricordatevi sempre di spuntare in italiano dovreste averlo già in automatico connettendovi dall'Italia però qualora non ci fosse andate in alto a destra ci sono tutte le lingue selezionate in italiano poi da strumenti per il cliente oltre agli altri strumenti che TICME lo offre c'è appunto questa Devance Training Toolkit cliccandoci trovate un po' tutte quelle che sono le spiegazioni e anche il modo per scaricarlo quindi vi rimanda poi sulla se non siete registrati quindi non avete un'area cliente ovviamente dovete registrarvi e quindi fare un po' tutta la quella che è l'iscrizione e quant'altro altrimenti poi chi è già cliente può entrare come vi ho detto prima nell'area cliente e andarlo a scaricare da dove ho fatto vedere prima quindi questo è un po' quello che succede una volta scaricato che è molto semplice fa tutto lui in automatico quindi non dobbiamo andare a cercare le cartelle o quant'altro dobbiamo selezionare solo la piattaforma di TICMEAL e viene appunto poi installato in due parti si divide una parte dedicata agli indicatori c'è appunto TICMEAL come iniziale per identificare quelli che sono gli strumenti del toolkit quindi ce ne sono diversi in indicatore e poi anche la sezione expert con vari strumenti che adesso andremo a vedere uno per uno in modo tale da poter poi darvi anche un overview di quello che sono questi tool allora partiamo dal primo che è il TICMEAL ALARM MANAGER quindi per richiamare appunto questo tool basta trascinarlo sul grafico io ad esempio ho aperto un grafico di dollaro franco dargli l'ok mi raccomando per questi tool dovete sempre avere le importazioni di LL flegate quindi deve esserci questo flegato altrimenti non funziona andiamo a dare l'ok e si apre una finestra a parte che fa parte del tool la cosa che mi piace molto è che queste finestre possono essere spostate quindi se avete il multischermo potete metterlo anche su altri schermi e quindi gestirli in maniera individuale quindi non vanno a occupare spazio al grafico quindi al di là della allora la MetaTrader 4 come tool di allarme ha il semplice allarme che noi andiamo a inserire qui su allarme in base al prezzo invece con questo tool possiamo inserire diversi tipi di allarme quindi basandoci qui vedete adesso allarmi e notizie ma non c'è solo quello potete fare allarme per prezzo per conto per attività di training per tempo allarme e notizie come dicevo appunto con calendario economico e sentiment e indicatori tecnici quindi una serie di allarmi ad esempio se volessimo applicare il semplice allarme di prezzo con il livello di prezzo cliccando poi sulla categoria del rispettivo allarme di prezzo vi si apre un'altra mascherina dove possiamo poi dare una serie di parametri e scegliere appunto l'allarme e anche dare poi una aggiungere un'azione a questo allarme quindi possiamo decidere di attivare il suono quindi riproduci suono normale con diversi diciamo suoni che potete poi anche testare oppure dare anche un ordine quindi non solo come allarme ma anche come ordine a mercato possiamo anche decidere di inviare un'email, un tweet, un sms o addirittura dare anche una disposizione di chiusura degli ordini in base magari abbiamo delle operazioni aperte su questo euro-dollaro e allora gli diciamo che se arriva su un determinato prezzo deve chiudere tutto e quindi poi diamo il salva quindi queste un po' sono tutte le caratteristiche che queste azioni che sono identiche per tutti i tipi di allarme che abbiamo quindi non solo per il prezzo ma anche ad esempio per il breakout di barra ma come può essere anche per il sentiment di questo si riferisce al sentiment retail che anche questo tool ce l'ha sapete che io sono molto fan dell'analisi retail con dei tool proprietari che diamo insieme a Salvatore e qui c'è un tool che non è ovviamente paragonabile a quello che diamo in privato però comunque è un sentiment trader abbastanza completo e qui possiamo anche dare un allarme in base al sentiment e quindi se il sentiment ad esempio in questo caso è una percentuale superiore all'80% gli possiamo dare un'azione diversa a seconda di quello che vogliamo fare se è la semplice riproduzione del suono oppure addirittura un ordine di acquisto, di vendita, di chiusura qualche quindi questo è un po' l'allarme e poi ce ne sono veramente tanti quindi è impossibile vederli uno per uno però sono molto simpatici vi invito magari appunto a chi già è cliente a scaricarlo e a fare un po' tutte le prove del caso perché ci sono diversi tipi di allarme che possono essere utilizzati quindi questa era la sezione dell'allarme manager poi c'è il Tickmill Connect sempre si trascina in questo caso quindi dandolo ok in questo caso non scompare praticamente il grafico viene sovrascritto e quindi ci sono una serie di diciamo di categorie che potete di elenchi che potete spulciare da questo Tickmill Connect come ad esempio le news quindi non solo riferite a quelle già calendarizzate come possono essere appunto il calendario economico anche delle news che arrivano in tempo reale nella sezione deposito prelievi quindi potete cliccare qui vi rimanda sulla pagina Tickmill per fare appunto depositi o prelievi stessa cosa dei webinar, dei blog una cosa interessante che mi piace di questo tool è il trade analysis perché avete praticamente il resoconto del vostro conto di trading quindi come se fosse un MyFXbook e potete controllare un po' come sta andando il vostro tipo di trading in base a un po' a queste statistiche che vi vengono fornite il numero delle operazioni potete anche vedere un po' il profitto dal saldo da diverse comunque caratteristiche e quindi anche qui farvi già un'analisi di quello che sono le vostre performance di trader come ad esempio tutti gli ordini che avete inserito e quindi una panoramica molto completa con molti tool statistici quindi veramente molto interessante averlo già portato di mano direttamente con il click senza dover poi fare comunque linkarvi su siti esterni direttamente dalla vostra piattaforma quindi ci sono altre statistiche come rendimento come dicevo le operazioni in profitto da quanti giorni fate training tutte queste cose qui poi un'altra cosa molto interessante che non sempre si trova è comunque scritto sul sito ma diciamo che gli swap cambiano sempre in tempo reale quindi avere anche un controllo appunto in tempo reale degli swap può essere una cosa molto interessante ovviamente c'è già da specificazione sullo strumento però averlo già così a colpo d'occhio può essere comunque anche una cosa interessante e poi c'è la calcolatrice anche questa molto utile per vedere un po' quelle che sono le caratteristiche e quindi vedere anche il costo della size quando vi costa in soldoni magari tenere una posizione long o short è il margine richiesto quindi molto davvero molto utile ok allora passiamo avanti io credo che fino a qui sia tutto chiaro poi ovviamente io vado un po' veloce perché ci sono tante le cose da vedere quindi un'ora è difficile andare a vedere tutto nel dettaglio però vi do appunto una panoramica di quelli che sono i tool allora quindi questo era il connect che chiudo l'altro è il correlation matrix anche questo molto interessante perché vi dà quelle che sono le correlazioni dello strumento su cui andate a richiamarlo quindi in questo caso è un dollaro yen ma qui avete comunque un po' tutta la panoramica di quelle che sono le correlazioni quindi potete scegliere su quali strumenti andare a vedere le varie correlazioni e quindi decidere se c'è la correlazione positiva come in questo caso tra dollaro yen Australia-Neozelanda di circa un 20% oppure correlazioni inverse come può essere un'Australia-Dollaro con Neozelanda in questo caso Australia-Dollaro scusate con dollaro franco e potete appunto verificare un po' tutte quelle che sono le condizioni di correlazione in rosso sono quelle che superano un determinato comunque livello e quindi sono correlazioni più alte e potete decidere anche su quante barre vederle se su 1500 e quindi darvi un po' anche l'idea su un lungo periodo sul breve periodo e ovviamente anche in base al time frame se volete vederla su un lungo periodo su 1000 barre con un grafico weekly andate a vedere un po' tutte quelle che sono le correlazioni dategli il tempo solo di caricare i dati e poi vi farà vedere comunque tutte quelle che sono le correlazioni con un altissimo esempio di Australia-Dollaro con dollaro-CAD inversa con un 94% quindi sono correlazioni molto alte in questo caso come ad esempio non c'è una correlazione su un wiki su 1000 barre tra stelline a dollaro e dollaro-yen quindi anche questo tool molto interessante e da qui vi potete scegliere i vari simboli e aggiungere o toglierli quindi questo era il correlation matrix poi c'è il correlation trader vedete che la schermata è sempre lo stesso sempre la stessa procedura allora correlation trader in questo caso è una correlazione come quello precedente però andiamo a vederla su un grafico diverso su una finestra diversa che potete spostare anche in questo caso quindi fuori dal grafico e va a mettere in correlazione due strumenti in questo caso c'è dollaro-franco con sterlina-dollaro e potete ovviamente scegliere i vari simboli e addirittura poi decidere se comprare o vendere in base alla mascherina che c'è sul nuovo ordine quindi vi dà anche diciamo un impatto più visivo sulle correlazioni andando a confrontare graficamente due strumenti questo è il correlation trader che è molto simile all'altro però ovviamente in questo caso andiamo a fare la correlazione solo tra due strumenti poi c'è questo un tool che non sono riuscito a farlo funzionare devo farlo controllare con quell'IT per capire se c'è un problema di natura appunto da FX Blue perché questo viene offerto da FX Blue dalla società FX Blue oppure da un problema relativo alla piattaforma di TechMill c'è la possibilità di trasferire un po' tutte quelle che sono le informazioni del conto o anche delle operazioni in corso direttamente su Excel quindi c'è la possibilità di andarvi un po' a fare delle statistiche direttamente su Excel solo che andando a spuntare le due i due comunque accetta comandi e usa come standardizzato dei simboli non mi fa fare il successivo passaggio che è quello su Excel poi guarderò sicuramente anche tutto il manuale che c'è vedete qui questo l'ho scaricato prima dall'area clienti c'è tutto un manuale con la spiegazione di diverse pagine su questo tool e anche un video che trovate direttamente sul sito di TechMill che vi spiega un po' questo tool di Excel poi provate anche voi magari forse un problema del mio PC magari con il vostro Excel funziona però c'è la possibilità anche di fare questo tipo di lavoro magari vi faccio vedere il video per darvi l'idea di che cosa fa vedete lo mando un po' avanti praticamente dovrebbe poi partire in automatico e per ogni account che avete potete fare un po' tutte queste statistiche con non so se vi può essere utile e quindi anche sui vari sulle varie operazioni che avete comunque in essere quindi direttamente su Excel ok allora ritorno sulla piattaforma prima di andare avanti vedo se ci sono delle domande allora fatemi tornare su zoom ok no per il momento no quindi dovrebbe essere tutto chiaro se non è così scrivetemelo allora l'altro market manager vediamo cosa fa questo market manager anche qui è una finestra che potete muovere al di fuori della piattaforma quindi in questo caso avete la semplice vista del mercato può essere utile non può essere utile però a differenza di quella semplice dove vedete adesso praticamente solo l'offerta il bid l'ask e lo spread qui oltre al bid dell'ask ci sono i numeri delle otti che avete in macchina ad esempio su un euro franco su questo conto ci sono sei mini lotti che potete chiudere anche da qui con il profitto in questo caso per circa 300 pips e poi anche altre operazioni potete suddividere poi decidere di vedere solo le posizioni aperte o per vedere solo quelli che sono le posizioni che potete avere o comunque il bid dell'ask di riferite solo al dollaro o ad altri strumenti inoltre potete vedere gli ordini aperti e condizionati quindi in questo caso vedete le operazioni aperte su euro franco con il profitto qui si può sempre chiudere direttamente con la x molto comodo o le informazioni sul conto in questo caso con il saldo del conto il pl flottante e poi il margine utilizzato questo è molto interessante per darvi un'idea del rischio che state correndo che attualmente è del 2% quindi molto basso potete anche vedere quando perdete in base o state guadagnando rispetto appunto al vostro conto in questo caso è una perdita del circa 1-2% o il profitto o perdita in pip che in questo caso viene diciamo non sono 26.000 pip perché comunque ci sono gli indici che non vengono calcolati correttamente perché comunque chiedo scusa c'è un problema tra diciamo la conversione dei punti degli indici quindi questo era un po' il market manager molto semplice e intuitivo e passiamo all'altro al mini terminal questo è l'unico diciamo adesso della lista che finora abbiamo visto che ha delle variabili esterne perché diciamo che questo è un terminal un tool dispositivo quindi potete decidere di avere la modalità di edging attiva potete confermare o meno gli ordini veloci quindi senza click confermare anche la chiusura degli ordini totali e altre varie caratteristiche che poi premendo ok vi riporta un po' a questa schermata dove si apre questa sorta diciamo di se vogliamo di book sulla destra del grafico dove potete inserire direttamente gli ordini andando a cliccare in questo caso quindi se volete mettere un buy limit ad esempio sul livello di 109 e 21 basta poi cliccare e viene messo l'ordine oppure se volete vendere in basso il sell limit vi spostate sulla destra in questo caso o buy stop quindi volete comprare più alto sulla diciamo colonna di sinistra che è appunto verde per i buy quindi buy stop o buy limit rossa per l'essere limit o l'essere stop poi c'è un'altra mascherina che è questa qui che vediamo se si può spostare questa no non la potete spostare rimane qui sul sulla sinistra oppure potete spostarla dove volete all'interno del grafico è un po' più completa rispetto a quella classica che vi dà la possibilità di comprare o vendere ci sono una serie di caratteristiche che potete inserire come anche potete decidere attraverso questi pulsanti di cliccandoci di andarlo un po' a personalizzare in questo caso cliccando sul pulsantino giallo in alto a destra c'è anche il separa grafico quindi ottimo se cliccate sul pulsante centrale sulla rotellina da impostazioni potete andare un po' a riprendere quelle che erano le diciamo le variabili esterne che si richiamano normalmente dal grafico quindi se le volete modificare basta cliccare lì poi si potete separare dal grafico o direttamente dal terminale e l'altro cliccando se volete comunque una visione più completa quindi potete cliccare e vedete che qui ci sono poi una serie di controlli grafici che potete fare qui potete zoomare il grafico direttamente da qui potete cambiare candele bar o linea quella che è l'ask se volete vedere l'ask sul mercato che questa è una cosa sempre che sfugge a molti perché di solito bisogna andare su proprietà e poi andare su comune e mostrare l'ask in questo caso basta cliccare qui e si ha direttamente appunto anche la visione dell'ask poi potete andare indietro darlo più avanti comunque vi invito poi a spulciare bene un po' tutte queste che sono le varie caratteristiche del mini terminal allora quindi questo era il mini terminal e adesso andiamo continuiamo sempre con gli expert sì allora la registrazione sarà disponibile dell'evento quindi è già live su facebook quindi potete vederla già domani mattina sulla pagina tech mille italy oppure poi su youtube verrà caricata sempre domani allora poi c'è il sentiment trader non ha variabili che devono essere inserite in questo caso un sentiment trader molto semplice abbiamo solo il tempo di di caricarlo mi fa vedere un po' come sono posizionati i trader sul mercato in questo caso su dollaro cad abbiamo 61% long contro un 39% short inoltre possiamo vederlo su tutte le varie sui vari strumenti quindi non solo sullo strumento su cui ho aperto il grafico ma anche poi sugli altri e possiamo poi inserire l'ordine direttamente da qui molto semplice sicuramente non non è dettagliato come può essere vediamo se ce l'ho qui no da qui non appare come ovviamente sapete la dashboard dei trader però ha un impatto molto immediato quindi se volete sapere come sono messi su dollaro cad la percentuale potete farlo direttamente da da questo tool poi vediamo quest'altro che è una mappa questi sono tool lascio un po' il tempo che trovo però se volete sapere dove siete rispetto diciamo gli erari di borsa potete andarvi a vedere questo tool sui orari di 3 in questo caso siamo sull'ora di new york sono le 20 33 e con l'ora attuale di new york 12 33 e chiude tra 4 ore e 27 in questo caso poi c'era londra ovviamente c'è prima sito in tokyo e dovrebbe forse riportarvi anche cosa carina sicuramente anche diciamo quelle che sono le news attese durante le varie sessioni di training quindi di borsa in questo caso vedete che andando con il mouse su questo rettangolo rosso vi dà come impatto visto che è rossa un impatto importante con l'uscita della notizia molto semplice e immediato Adario mi dice che sono le 13 33 a New York ore attuale 12.34 va bene poi non lo so perché fa vedere comunque un'ora indietro manca l'ora legale ok ok perfetto magari non è stato ancora aggiornato questo è comunque diciamo compito di FX Blue andare poi a aggiornare questi dati allora Pietro mi chiede quanto pesa il tutto allora diciamo che non è molto pesante io poi ho diverse piattaforme devo dire che lo sto utilizzando da appunto da quando è stato lanciato sia su questa piattaforma che sull'altra dove ho anche altri indicatori expert ed è molto fluido bisogna solo forse dare il tempo per quando richiama comunque dei dati importanti dargli qualche secondo di tempo per caricarli però la piattaforma non si pianta o almeno fino ad oggi non si è mai piantata e io poi la utilizzo giornalmente anche in alta volatilità e quindi è molto molto fluido gli ordini still quindi in questo caso parliamo di ordini che magari sapete molti non vogliono far vedere gli ordini al broker poi qui ci sarebbe comunque da disquisire a lungo ma se volete fare un ingresso che non viene visualizzato c'è questa modalità che dà la possibilità di inserire un ingresso che rimane su questa schermata praticamente poi viene inviata direttamente poi al broker una volta che viene raggiunto il prezzo può essere utile fino a un certo punto perché ovviamente poi se c'è un ordine alta volatilità potrebbero essere presi maggiori slippage rispetto invece ad avere già l'ordine in macchina però in questo caso potete decidere di adoperare questo tipo di modalità qualora siate interessati andando a compilare questa diciamo queste varie caratteristiche del del tool e quindi dargli anche un numero magico lo spread massimo perché vedete che mi mette già lo spread massimo proprio perché comunque la possibilità che possa essere diciamo comunque l'ordine vaso con un maggiore slippage può capitare visto che comunque l'ordine viene evaso appena viene toccato quel prezzo che voi volete comunque inserire potete anche fare l'uscita su un determinato livello anche in modalità nascosta anche su direttamente sull'intero simbolo quindi con il profitto totale le perdite totale bla 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 queste altre cose anche l'uscita dal ponto quindi in base al pl flottante potete decidere di avere una perdita determinata e quindi dire che se la perdita va a 1000 euro di uscire direttamente di chiudere tutto e quindi poi potete anche caricarvi queste impostazioni e salvarle questa era un po' la modalità nascosta allora Vincenzo allora Vincenzo Vincenzo allora attraverso il linguaggio MQL4 è possibile comunicare tra i vari tool in pratica è possibile connetterlo con proprio training system bella domanda non saprei ma credo di no perché non c'è comunque diciamo ci sono solo gli eseguibili non c'è la possibilità di poterlo secondo me modificare però ad esempio molti sono dispositivi come ad esempio può essere l'alarm manager dove vai a dare direttamente un'indicazione direttamente dal tool poi Pietro c'è l'indicatore di Salvatore no quello è a parte quindi sempre gratuito per i clienti di Tickmill e basta poi inviare l'email a me o a Salvatore proseguendo sempre con diciamo questi tool cosa ci rimangono il Tick Chart Trader questo anche carino perché è vero sì ci sono i Tick però magari se vogliamo avere uno storico un po' più completo possiamo decidere questo è anche poi si sposta quindi in questo caso potete averlo su un'altra schermata potete avere il Tick per la velocità quindi velocità Tick in base alla velocità che sono questi histogrammi grigi quindi capire anche se c'è una determinata velocità sul mercato in base al tempo le candele e poi c'è anche il grafico secondi che sapete non c'è sulla MetaTrader e quindi potete anche vedere come si muove ogni secondo in questo caso ogni 10 secondi il prezzo carino può essere utile lo spostate magari chi ha multischermo su un determinato schermo per vedere anche come si muove un determinato la velocità di un determinato strumento l'ultimo della lista degli expert e sono già 40 quindi poi dobbiamo vedere gli indicatori dovremo farcela l'ultimo il trade terminal questo è l'altro che ha insieme al mini termine un po' delle variabili esterne quindi che sono le stesse del diciamo del mini termine però in questo caso ce ne sono solo tre che appunto la monetarietà in aging la conferma degli ordini veloci e la conferma della chiusura totale degli ordini anche qui quindi viene sovrascritto e vedete c'è un po' tutto quello che è il saldo quelle che sono un po' tutte le caratteristiche del conto e potete direttamente operare da qui e quindi invece di avere la schermata questa che è un po' magari non è molto comoda la avete direttamente da qui e potete decidere di dare anche determinati impostazioni quindi creare un gruppo di determinati ordini dargli un determinato comunque livello di entrata di uscita è un po' complicato quindi questo andatevi a vedere anche il manuale però può essere utile per semplificare un po' quello che è il training con determinati input invece di andarvi poi a guardare direttamente dal saldo quello canonico da posizioni aperte dove potete eventualmente qui chiudere solo con la X invece qui potete fare altri tipi di operazioni oltre che andare ad operare direttamente dai vari pool che ci sono sulla destra ok quindi questa era un po' la presentazione dei vari expert datemi un feedback in chat se li potete se li trovate utili magari mi dite quello che avete trovato che trovate mi sembro più utile rispetto a quello che è il meno utile e io passo adesso alla lista degli indicatori ce ne sono anche qui un bel po' allora allora iniziamo con il bar changer che altro non è che un un indicatore che vi permette di vedere determinati grafici che non sono disponibili sul diciamo su quelli di consueto che noi abbiamo quindi ad esempio un grafico a due minuti non c'è quindi possiamo ovviamente c'è quella procedura che un po' tutti sanno di andarla aprire sull'offline e quant'altro però qui basta mettere l'indicatore di decidere su quale time frame e vederlo quindi in questo caso il 2 dargli l'ok vediamo se l'ha creato e vedete qui su consiglieri il bar changer ha creato un un chart quindi un grafico su m2 per aprirlo basta poi andare su apri senza connessione e se ho fatto bene dovrebbe trovarsi qui eccolo qui e vedete avete il grafico a due minuti su sterlina dollaro quindi basta poi fare il dargli l'input direttamente dalle variabili esterne come vi ho fatto vedere prima quindi questo per avere il grafico diverso da quelli canonici che abbiamo che sono m1 m5 m15 m30 h1 h4 se volete l'h2 ve lo andate a creare direttamente da lì poi c'è il countdown molto molto basilare semplice mi dà appunto quando manca la chiusura della candela in questo caso 15 minuti questo non c'è non ho mai capito perché metateter non lo mettesse come diciamo standard con un indicatore standard si doveva sempre scaricare esternamente in questo caso ce l'abbiamo molto pratico vediamo se si può spostare non mi ricordo sinceramente se lo possiamo spostare o dare sì potete cambiare il colore poi anche la posizione in base top left se lo volete l'alto a sinistra che non si vede bene però lo potete spostare poi tick mill chart group questo o quello che trovo un po inutile però ve lo faccio vedere lo stesso allora una volta che date l'input scrivete un numero un 5 perché vedete che è cambiato e si è messo sul nasdaq praticamente io già prima del webinar ho fatto questa prova e vi dà la possibilità di definire un determinato simbolo e quindi dare l'input di numerarlo come in questo caso io ho messo il 5 quindi il nasdaq che ogni volta che premo e quindi in questo caso avete visto io ho caricato se non sbaglio sterlina dollaro ho cliccato 5 e mi ha fatto vedere il nasdaq perché io prima del webinar avevo dato come nome del gruppo il nasdaq il numero 5 quindi lui l'ha memorizzato e quindi vi fa vedere questo grafico nuovamente quindi vi fa vedere il nasdaq se ad esempio riprovo e vediamo se funziona perché magari non si capisce bene quindi mettiamo che io ho sterlina dollaro e sterlina dollaro mi do l'ok e finisco 1 sterlina dollaro poi apro un altro grafico vediamo se adesso io premendo 1 in teoria dovrebbe farci vedere sterlina dollaro eh no mi fa vedere il dax ve l'ho detto che era inutile allora questo poi magari vedetelo bene magari me lo spiegate anche a me perché questo me lo sono visto prima con la guida ma magari non ho capito bene io l'input da dare però praticamente si creano determinati gruppi e liste in base al numero che non so a che cosa possa servire magari c'è un'utilità che attualmente mi sfugge però passiamo avanti ci sono altri che reputo più interessanti come ad esempio il charting charting chart che vi fa vedere vi confronta due strumenti in questo caso ve li fa vedere perché sapete che con la metatrader non c'è la possibilità di farlo se non la metatrader si può fare tutto ma bisogna sempre scaricarsi indicatori esterni e quant'altro però in questo caso potete confrontare due strumenti direttamente da questo indicatore quindi andandovi poi a dare le varie caratteristiche e comunque i vari simboli e potete vedere quello che mi interessa di più è confrontare anche per un discorso di correlazione e quindi potete confrontare ad esempio se volete vedere come si sta muovendo il DAX rispetto al dollaro yen potete potete fare questa cosa qui e vedere se lo yen è forte magari i mercati stanno crollando c'è una fase di riscoffo quindi potete fare queste analisi con questo tool poi c'è l'altro che sicuramente conoscete la stragrande maggioranza che però non si trova come indicatore standard bisogna anche questo sempre scaricarlo esternamente invece qui si ha già tra la lista il pacchetto il doncian che mi fa vedere questo indicatore che è molto famoso so che molti lo utilizzano e quindi c'è la possibilità di averlo gratuitamente e quindi già pronto nel pacchetto poi c'è il freehand drawing che questo ci ho messo un po' per capirlo però come funziona praticamente se volete disegnare sul grafico state facendo un webinar o comunque una chat di gruppo volete fare determinati disegni da far vedere potete decidere direttamente di farlo con questo tool ci sono le magnette che secondo me forse sono anche molto più comode però se non la trovate volete magari far vedere un determinato livello e quindi evidenziarlo in questo caso bisogna premere la D della tastiera e poi praticamente potete disegnare vedete direttamente sul grafico io sto premendo la D e il mouse quindi per fare un cerchio ad esempio si preme la D e poi col mouse si fa il cerchio dovete stare attendo per cancellare il tutto con la X prendo solo la X quindi in questo caso se vi serve per disegnare dei supporti o delle resistenze potete utilizzare questo comodo tool potete cambiare anche il colore se non vi piace il rosso vedete qui c'è una lista se ad esempio volete il colore giallo è la Y quindi dovete prima premere la Y sulla tastiera e poi sempre con la D quindi per disegnare bisogna cliccare la D e poi muovere il mouse se volete cambiare il colore gli dovete dare prima l'input in base alla lettera che c'è sulla lista indicatori in questo caso vedete che per il giallo c'è la Y per il green l'iniziale quindi in inglese la G quindi se volete farlo verde quindi prima G poi la D e potete disegnare utile si può essere utile se non avete una una diciamo lavagnetta e quindi anche in questo caso può essere utile allora gravity questo potrebbe creare un po' di diciamo un po' di polemiche perché sapete che magari su molti dicono i volumi non ci sono con le piattaforme ECFD in questo caso è una sorta di non so come definirlo però vi dà sugli histogrammi sulla destra una specie se lo chiamiamo così di volume profile con con quelle diciamo con i livelli che sono stati più negoziati dove c'è stato più interesse come in questo caso questa questa situazione qui in questo caso vedete che è utile il anche l'altro il freehand drawing e in questo caso vedete che ho evidenziato la parte dove c'è stato più interesse e poi si crea una sorta di non lo so non sono un esperto di volume profile non vorrei dire bagianate però comunque vi dà la possibilità anche di vedere queste situazioni qui e poi ve lo spulciate per bene poi semplice l'Ilo semplice ma utile non c'era sulla Metri Trader come diciamo un indicatore standard vi fa vedere il daily high e il daily low e in questo caso potete anche appunto viene tratteggiato quelli che sono i livelli di giornata e quindi potete fare anche in questo caso delle analisi allora bevo un goccio d'acqua vediamo se ci sono delle domande anzi vedo che ci sono un po' delle domande però finisco con la presentazione e poi dedico 5 minuti per vedere il tutto allora però per gli altri indicatori mettiamo un altro grafico quest'altro è un altro indicatore io non ho mai utilizzato non so se lo conoscete il Keltner spero di averlo pronunciato bene è una sorte di Bollinger Band con una mediana e con due mediane con una superiore e una inferiore Massimo dice con un indicatore di volatilità quindi svolge questa funzione qui di volatilità un po' come le Bollinger però avrà sicuramente un'altra formula e quindi anche qui abbiamo questo indicatore interessante come può essere la regressione lineare vedete qui questa vedete fatemi mettere un attimo la cerchio perché non so se si vede questa parte qui poi poi allora questo non so cosa ah questo qui vi dà la possibilità di vedere il il grafico e di andare a fare una specie di scansione vi fa vedere il time frame inferiore a quello che state visualizzando in questo caso un H1 e quindi fa vedere l'M30 come si è mosso quindi però potete decidere di vederne diversi quindi determinate quindi che non so se volete vedere l'M1 vediamo se me lo fa vedere quindi che ne so su questa candela come si è mosso l'M1 su questa candela di volatilità vedete come sia stata esattamente una candela quindi uno scanner di questa candela qui non questa questa qui questa qui quindi la spostate sulla barra in questo caso e vi fa vedere la dinamica di come si è creata sulla M1 può essere molto interessante qui su quell'altra vedete che è stata una candela che è crollata praticamente subito per poi andare a lateralizzare e quindi potete vediamo fino a dove arriva per esempio che ne so se vogliamo capire come è acceduto questo massimo vediamo se la prende no non credo che abbia uno storico però qui ad esempio se vogliamo vedere questo swing come è fallito questo breakout vedete che sull'M1 prima ha provato comunque a romvere per poi scendere in maniera molto forte allora quindi è una sorte diciamo di scansione di zoom se vogliamo di quella che è esatto proprio uno zoom su quello che è stata quella diciamo quella candela lì quindi dove era rimasto come si chiama questa ok no questo è il mini chart invece cosa fa il mini chart non è come l'altra in questo caso se vogliamo vedere un determinato quindi questo è dollaro yen su H1 ma se io volessi vedere un M30 quindi qui se voglio vedere un M2 molto comodo me lo fa vedere su questa finestra finestrella che non si può portare fuori dal grafico però è comoda per vedere un po' come si è mosso quindi se ne possono mettere altre io questa la utilizzo in effetti questo la trovo molto utile perché mi fa vedere anche che ne so se voglio vedere un M10 quindi posso vedere un M10 un M2 le posso mettere qui sotto e posso capire un po' come si sono mossi su altri time frame inferiori rispetto a quello che sto guardando poi l'order history questo anche può essere interessante ce l'ho già qui impostato su dove opera il conto in questo caso vedete che vi fa vedere un po' quelle che sono le storie dei trade che avete fatto in questo caso sul Nasdaq vi fa vedere un po' come le entrate in questo caso e l'uscita vedete vi fa vedere anche un po' quelle rosse chiuse in perdita quelle verdi chiuse ovviamente in guadagno questa serie ad esempio di trade che era iniziata da qui prima entrata seconda entrata terza entrata quarta entrata e poi uscita tutta su questa su questo livello di prezzo stessa cosa in questo caso solo un trade vedete l'uscita e insomma mi fa vedere anche un po' quella che è la storia dei trade poi i pivot non hanno bisogno ovviamente di presentazioni però questi non sono non c'erano o quantomeno non sono presenti in maniera standard sulla MetaTrader 4 quindi ogni volta bisogna andarsela a cercare sul market qui è già presente nel gruppo del diciamo di questi questo bundle di indicatori quindi c'è anche il pivot non so se si possono personalizzare io non li utilizzo però molti fanno trading su questo tipo di indicatori si potete utilizzare e quindi andare a modificare un po' quelli che sono i vari parametri in base a quelle che sono le vostre intuizioni di training poi c'è il Renko anche questo non è un 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 grafico comunque disponibile è una rappresentazione grafica ve lo potete anche in questo caso credo personalizzare in base un po' anche al box che volete vedere se volete vedere un blocco di che ne so 20 pip vedete che mi fa questa poi magari graficamente può sporcare un po' però può essere può essere utile anche vedere un po' come si è mosso direttamente su un range di pip dovrebbe ah no c'è l'ultima la simbolinfo che non mi ricordo cos'è utile vi fa vedere la percentuale che anche questa non c'è sulla metatrader con quindi quando perde oggi il dollaro yen e vi dà anche un po' l'input vi fa vedere un po' la livello visivo come si stanno muovendo i vari time frame in base indicatori quindi in questo caso una media mobile a 14 periodi non so se si vede da qui su un M15 è ribassista su un M1 sta iniziando ad esempio ad essere rialzista ok allora io ho finito la presentazione quindi direi che credo che sia stata abbastanza interessante poi ovviamente come vi ripeto andatevi a scaricare i manuali ma soprattutto provatela con i vari i vari tool quindi chi è già cliente di Tickmill può scaricarla senza problemi e vado a leggere un po' di domande che vedo che ci sono allora Dario i primi molto utili quelli degli expert l'allarme manager davvero interessante sì quello è molto utile mini termine all'ottimo comunque tutti validi e utili quando ci fai la mano è vero bisogna comunque farci pratica Pietro non ci crederai ma tanto apprezzabile ciò che stai mostrando quando quanto mangia soldi è disturbante per il tempo che occorre per sperimentare sì bisogna comunque fare un po' sempre di prove poi Massimo mi dice che non era appunto sul indicatore il Keltner era un indicatore di volatilità non c'è il ROG non quello no nel vario bundle e sì lo zoom sono riferito invece alla a uno degli indicatori che vi ho fatto vedere ok direi che abbiamo visto un po' di cose come vi dicevo la registrazione è già disponibile sulla pagina TicMill Italy su Facebook altrimenti domani su YouTube allora grazie a tutti e io vi do appuntamento al prossimo webinar che sarà su TradingView quindi parleremo di prodotti regolamentati non perdetelo e dovrebbe essere la data del 10 agosto comunque riceverete poi la conferma via email grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti